Antonella Fiordelisi ha denunciato il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa. L'influencer campana lo ha fatto appena uscita dalla casa del grande fratello Vip, come ha raccontato in un'intervista al settimanale Di Più. Gianluca? Ha esagerato. Capisco la sua sofferenza nel vedermi con un altro, ma è andato oltre il consentito. Mi ha offesa pubblicamente. Una volta uscita, l'ho denunciato. Ora la giustizia farà il suo corso. Gianluca Benincasa sarebbe dovuto essere uno degli ex avarcare la soglia della Porta Rossa insieme a Ivana Mrasova, Martina Nasoni e Matteo Diamante, ma il suo ingresso è saltato a causa del padre di Antonella Fiordelisi, che fece un esposto alla procura accusandolo di stalking nei confronti della figlia. Ma l'ex fidanzato della Vipona non si è arreso, e attraverso i social ha svelato alcune presunte conversazioni nelle quali lei si sarebbe dovuta comportare nella casa per ottenere il consenso del pubblico, tra frasi in latino studiate ad hoc e la pianificazione di ship. Mi aveva detto che ci sarebbe stata una ship ma che non sarebbe andata oltre. Tipo come con Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Aveva pensato a qualcosa che potesse far fantasticare gli spettatori senza che dovesse andare a letto con un altro, le parole di Gianluca. Dopo l'uscita dalla casa, Antonella ha bloccato il suo ex su WhatsApp, Antonella mi ha bloccato su WhatsApp. Lei ora deve anche firmare qualche denuncia nei miei confronti che hanno già preparato i suoi genitori. Nel momento in cui lei, personalmente, firma qualcosa contro di me, io, se finora ho buttato il 50%, butterò il 100% e non mi ricorderò neanche del mio vecchio rapporto. Sarà una guerra legalizzata. Nel frattempo, dopo aver appreso dell'intervista di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa ha commentato con un sibillino, come mi diverto ora.